Sono ritenuti responsabili della scia di sangue che ha terrorizzato la città di Bari la primavera scorsa. In primis, l'uccisione di Giacomo Caracciolese e il triplice omicidio avvenuto circa un mese e mezzo dopo nel quartiere San Paolo, considerato una risposta alla morte del boss. Questa mattina, otto persone sono state raggiunte da altrettante ordinanze di custodia cautelare emesse dalla magistratura barese, in quanto ritenute responsabili a bariotitolo dei reati di omicidio, tentato omicidio, detenzioni di armi da guerra, nonché di favoreggiamento e ricettazione. I fatti contestati sono avvenuti tra aprile e maggio di quest'anno, a cominciare dall'agguato ai danni del boss Giacomo Caracciolese, ucciso il 5 aprile scorso in Via dei Mille nel quartiere San Pasquale. A questa morte eccellente seguirono due tentati omicidi, quelli di Vitantonio Fiore e Domenico Cantalice, avvenuti il 17 e il 18 maggio. Lo stesso Fiore venne poi assassinato due giorni dopo, nell'agguato costato la vita da altre due persone, Antonio Romito e Claudio Fanelli. Gli episodi di sangue vanno inquadrati nell'ambito della guerra di mafia tra il clan Fiore e quello facente capo a Caracciolese, il quale intendeva gestire in completa autonomia le attività di spaccio e le estorsioni nel quartiere di San Pasquale. Gli investigatori hanno inoltre documentato il tentativo di eliminare il pregiudicato Cantalice, elemento di spicco del clan dei Capriati. Gli investigatori hanno inoltre documentato il tentativo di eliminare il pregiudicato Cantalice, elemento di spicco del clan dei Capriati, un agguato ricollegabile allo storico contrasto esistente tra il gruppo omonimo e quello degli strisciuglio. A seguito degli ultimi gravi episodi di criminalità accaduti nel capoluogo, sono stati assegnati alla questura altri 86 poliziotti che prenderanno servizio entro i primi giorni di ottobre, rinforzi utili per combattere una guerra che sembra non avere fine.